Il codice fiscale È luce, è bellissimo, dovresti tenerlo Si arrangiano gli altri se non sanno dirlo Scusa Io non vedo l'ora di vederti Voglio vedere perché il Duomo è un bello stage È un bel palcoscenico Chi si esibisce in piazza Duomo di solito sono veramente bravi Quindi voglio sentirti, sono curiosissimo Anna? Infatti quando ho visto prima il video Ho visto che tantissima gente si è fermata Che è la cosa più difficile, no? In genere Grazie 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 Scusa È diventato un altro È come on-off Hai visto? On-off Cioè off-on più che altro Si è acceso di colpo Grazie Vediamo quanto ha totalizzato Ragazzi lui è da 100 ragazzi Il muro ha già dato 99 punti Solo uno è rimasto seduto Perché? Cos'è successo? Abbiamo 99 punti dal muro Dopo il punto che manca al 100 Perché così faccio il pari Con lui sei arrivato al 100 anche tu Franci Scusa se ti chiamo Franci Ma ormai sei Quanto gli dai? Io confermo il 100 Nel senso che mi è piaciuto tantissimo Proprio il vendere Questo era un 100 Questo era un 100 Perfetto Quindi voi subito Confermate tutti Perché non è soltanto È la capacità di cantare Muoversi Fare Ho capito che confermate tutti Tu mi confermi che confermi? Tutti mi sono sottoscrivo firmo Confermi che confermi Allora accendiamola vai Accendiamo Confermo Confermo Più uno Echi Direi che hai veramente Fatto strage Strike Ok Quindi tu la prossima puntata Avrai un bonus E partirai con più 10 Complimenti Echi Grazie a tutti Grazie mille Echi 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 E come si dice? Rubiano Non lo sa Trocanao Trocanao Echi Trocanao Allora Echi ragazzi È partito con un bel 100 Per cui tu lo sai Che oggi Parti con un più 10 Un bonus di 10 punti Quindi sei pronto? Prontissimo Il palco è tutto tuo Grazie Applausi There's a place in your heart And I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try You'll find there's no need to cry In your place You'll feel there's no hurt and no sorrow All together now In the world In the world Make a better place For you and for me 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 If you care enough If you care enough You care enough You'll make a better place For you and for me For you and for me Il nostro ecchi ha dato tutto, tutto ha dato, che bello, che bravo che sei, allora vediamo quanti punti hai totalizzato, vieni qua vicino. Ecchi siamo la seconda puntata e di nuovo sbancato con 97 punti, tra l'altro voglio ricordare che lui ha un bonus di 10 per cui più di 100 non possiamo dare per cui va direttamente a 100, a questo punto voglio chiedere, non è 100 l'immediato a tutti, allora Rita conferma su Axe cosa dici? Grazie Ecchi, puoi andarti ad accomodare. Come si fa a non amare Ecchi, perché è arrivato qui con un suo sogno americano in Italia, poi ha trovato una bellissima moglie, adesso è famiglia diciamo lì in Indonesia, ce la Alla prossima! Alla prossima! I love you, seen it all by life Be no, baby So tell me If you really love me Seen it all by life Drive me crazy Cause baby Love never felt so good Never felt so cool Echi, quanto ci piaci Echi, guarda che roba Guarda Vediamo subito quanti voti hai totalizzato dal nostro muro 98 punti Echi, mamma mia You got it, man Da Piazza del Duomo Sul palco di All Together Now Veramente, ma proprio senza nessun tipo di problema Allora, andiamo subito dalla nostra giuria Anna, il primo voto a te Beh, questo pezzo non era per niente facile C'era Justin, Michael, Michael Jackson Quindi per niente facile È andata bene È andata bene E devo dirti la verità Il mente è veramente bravo Quindi ti do il 100 100 per Echi Grazie mille Assolutamente Andiamo avanti con Rita Che io confermo Perché Echi mi piace molto Ha questo senso Ha la capacità di stare sulla scena Capito? Non fa del mente un entertainer Grazie E quindi confermi E quindi confermo il 100 Perfetto Axe? Echi, finora Ti abbiamo sentito su pezzi molto simili Tu sei fortissimo nelle note alte Però Ad All Together Now Devi saper fare di tutto Io penso che Finora sei stato molto nella tua comfort zone Ma tu tipo Qualche canzone italiana La conosci? Sì, sì Facci un pezzettino Quale canzone conosci? I pezzi di Francesco Reck Per l'atmosfera Yeah, 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 yeah Ti prego di mungire il moon Dai Yeah, 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 yeah Va bene Allora, sia per la scelta del pezzo Che per come l'hai cantato Non posso fare altro che confermare il 100 Un 100 per Echi Complimenti Grazie mille Un bonus di più 10 per la prossima puntata Ti puoi andare a accomodare sul tuo podio Ti puoi andare a accomodare sul tuo podio Tra le foglie soffia un vento molto nebole Nel frattempo un fiore sta per nascere Bravo, manelli Eccoci qua A guardare le nuvole Su un tappeto di fragole E mi rendo ridicolo Eccoci qua A guardare le nuvole Su un tappeto di fragole Come si fa A spiegarti che mi agito E mi rendo ridicolo Tu parla, mi stringi Ma pure fingi di amarmi Numero uno Numero uno, numero uno assoluto Bravissimo Numero uno Grazie a tutti Echi Bellissimo Chi, Echi, 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 Echi Ragazzi è inutile chiederlo ma lo faccio lo stesso Quanti punti ha totalizzato Echi Quanti punti ha totalizzato Echi? Certo Bravo, Echi Bravo Penso che sia la prima volta che si siano alzati tutti quanti al unisono Cioè nel senso Echi Bravo, bravo Cioè sembravi un italiano Vero Nascita Ma hai fatto coaching? È la prima volta che canto Ascolta ma come hai fatto? Hai studiato proprio tanto anche l'italiano? Sì, mi sono impegnato molto Echi 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 Ma sei stato bravissimo Grazie, grazie mille No ma con una precisione nella lingua italiana Cioè adesso vabbè diranno loro le cose tecniche Guarda nel muro piangono tutti Echi Allora Non so chi prendere perché stanno veramente tutti piangendo Una cosa di bastante Sentiamo un'esperta come Silvia Mezzanotte cosa ne pensa? Beh anche lei si sta asciugando le lacrime vedo Sì perché Cioè hai veramente sorpreso Cioè tu hai cantato in italiano molto meglio di tanti italiani Te lo dico proprio Ok Ma soprattutto per l'impegno, la disciplina e la professionalità Cioè così si diventa grande artiste No, lo puoi solo confermare Assolutamente Confermare, metto Assolutamente Per me è uno che è alti livelli Perché ha una vocalità bellissima Io confermo il 100 Rita Pavone conferma Ax Allora quando ho sentito che sei partito in italiano Ammetto che ho avuto paura In realtà hai Hai fatto bene E quindi Anche io voglio confermare il 100 Senza dubbio E anche Ax conferma Ci hai avuto così tanti complimenti Tutti in una botta sola No Non posso credere Comunque tu sei uno che studia Vero Echi? Sì Tanto Ti hanno assegnato questo pezzo E tu ti sei messo lì Ma ti sei fatto aiutare da qualcuno? Mia moglie sicuramente Ah è vero Tua moglie Perché parla benissimo l'italiana Lei è italiana Lei è italiana Quindi Che bello Potresti vincere 50.000 euro Perché tu ti prendi il podio Con i tuoi 100 punti E avrai un bonus di più 10 Per la prossima volta Complimenti, complimenti, complimenti Sì, grazie Bravo Echi Grazie, grazie mille a tutti Siete fantastici Grazie mille